Ciao, bentornate e bentornati. Il problema di algebra di oggi chiede di calcolare x alla terza più y alla terza e sappiamo che x più y è uguale a 3 e anche x per y è uguale a 3. Se ci vuoi provare metti in pausa, tra poco parte lo svolgimento. Per risolvere il problema una strategia tradizionale è quella di risolvere il sistema x più y uguale a 3 e x per y uguale a 3 e una volta trovati i valori di x e y calcolare x alla terza più y alla terza. Però come vedremo questo metodo crea delle complicazioni perché i calcoli vengono un po' lunghi, c'è il rischio di fare errori di distrazione e quindi dopo ti propongo un metodo più elegante. Vediamo però velocemente questo, si può esplicitare la y in funzione di x, quindi y uguale a 3 meno x e sostituire nella y della seconda. Quindi si sviluppa la seconda equazione e si ottiene x alla seconda meno 3x più 3 uguale a 0. Dobbiamo risolvere un'equazione di secondo grado, quindi applichiamo la nota formula risolutiva e come soluzione per la x si ottiene 3 più o meno radice di meno 3 fratto 2. Si nota subito che c'è un numero negativo sotto radice e questo vuol dire che non c'è nessun numero reale x che soddisfa le condizioni richieste, per cui sembra che siamo bloccati. Però in realtà noi non dobbiamo calcolare x e y separatamente ma direttamente x alla terza più y alla terza. Quindi c'è ancora la speranza di arrivare a una soluzione. Infatti se conosci la teoria dei numeri complessi sai che questa scrittura può essere scritta come 3 più o meno i per radice 3 fratto 2 e dalle x per sostituzione si possono ricavare anche le y. Qui salto qualche passaggio e si ottiene che le y valgono 3 meno più i radice 3 fratto 2, cioè se nelle x c'è il più nelle y c'è il meno e viceversa. Ora possiamo sostituire questi valori in x alla terza più y alla terza e si ottiene questa espressione. A questo punto bisogna sviluppare i calcoli che sono abbastanza lunghi perché dobbiamo fare il cubo di un numero complesso che ha un suo sviluppo simile al cubo di un binomio e poi semplificando si arriva a calcolare x alla terza più y alla terza. Io però qui mi sono interrotto perché voglio mostrarti un secondo metodo che porta allo stesso risultato ma in modo molto più semplice e più elegante. Quindi riprendiamo il problema dall'inizio. Sappiamo che x e y sono due numeri la cui somma vale 3 e il cui prodotto vale sempre 3. Ora analizziamo x più y alla seconda. Può essere un punto di partenza interessante perché x più y alla seconda sappiamo che fa 9 in quanto x più y vale 3. Inoltre nello sviluppo del quadrato del binomio ci sarà il doppio prodotto, il termine 2xy e 2xy sappiamo che vale 6 perché x per y fa 3. Quindi questo può essere un buon punto di partenza che ci potrà portare a dei risultati interessanti. Quindi procediamo con lo sviluppo del binomio e otteniamo x alla seconda più y alla seconda più 2xy uguale a 9 e quindi al posto di xy possiamo sostituire 3 e otteniamo x alla seconda più y alla seconda più 6 uguale a 9 da cui x alla seconda più y alla seconda uguale a 3. A noi però interessa x alla terza più y alla terza. Allora per creare questi termini moltiplichiamo x alla seconda più y alla seconda ancora per x più y e quindi si ottiene x alla terza più xy alla seconda più x alla seconda y più y alla terza e il tutto è uguale a 3 per 3 che fa 9. A questo punto abbiamo x alla terza più y alla terza che è la nostra incognita e poi raccogliendo xy rimane xy per x più y uguale a 9 ma sappiamo che x per y è uguale a 3. x più y è uguale a 3 e quindi questo termine è uguale a 3 per 3 che fa 9 e quindi viene x alla terza più y alla terza più 9 uguale a 9 e semplificando i due 9 si ha che x alla terza più y alla terza è uguale a 0 che è un risultato abbastanza sorprendente. Quindi anche senza ricavare i singoli valori di x e y siamo riusciti a capire quanto vale x alla terza più y alla terza. Sul mio canale c'è una playlist di algebra e l'esercizio 2 è abbastanza simile a questo quindi se vuoi provare a farne uno simile ti consiglio l'esercizio 2. Se ti piacciono i problemi di matematica puoi dare uno sguardo dal mio libro si trova su amazon si intitola matematica attivamente speriamo che non me lo metta troppo in fondo eccolo qua comunque ti lascio anche il link in descrizione a questo video ed è di problemi di geometria sono problemi di ragionamento se ti interessa puoi dargli uno sguardo e valutare se ordinarlo. Se invece preferisci continuare su youtube ti lascio un po' di link a playlist di problemi che si trovano tutti sul mio canale che puoi visitare cliccando sul cerchio e se ti piace puoi iscriverti. Ciao e grazie